12 final days, gli ultimi 12 giorni di Roger Federer, che detta così sembrerebbe la fine della persona, che in realtà non è, ma la fine della carriera di un grande giocatore, un'icona del tennis globale. Ed è uscito proprio su Amazon Prime, l'ho visto e adesso vi racconto un po' di sensazioni, pensieri e non vi spoilerò troppo. Il documentario è disponibile su Amazon Prime, ho avuto modo di vederlo proprio ieri sera, è stato un viaggio bellissimo, circa un'ora e mezza di produzione cinematografica di alto livello, un documentario molto ben fatto, molto ben strutturato. Mi è piaciuto tanto, c'è Roger Federer in persona, in prima persona che racconta, esprime i suoi pensieri, viene seguito durante questi ultimi 12 giorni della sua carriera. Prima di andare avanti, ovviamente, iscriviti al canale, metti un bel mi piace, sostieni la community, fai la tua parte, trovi qui sotto i link in descrizione, magari per abbonarti al canale, oppure sostenere il progetto attraverso l'acquisto di Yannick Sinel Predestinato, il libro che ho scritto con prefazione di Ubaldo Scanagate, che trovi su Amazon. Amazon. Tornando a Federer, tutto comincia nella stanza, dove legge il discorso ormai diventato, diciamo così, molto molto famoso, uscito in quel giorno del 2022, quando lui ha dichiarato ufficialmente il ritiro. Quindi si passa per le emozioni di quel momento. Lì, se ricordate, facendo un salto indietro nel passato, veniva da uno o due anni particolarmente frastagliati, tra in e out dal campo, con questi dolori al gomito persistenti, al gomito, sì, al ginocchio persistenti, non riuscivano a farlo esprimere al meglio. Memorabile, purtroppo, in negativo, la sconfitta contro Urkac a Wimbledon 2022, dove uscì dal campo in 3-7 con un 6-0 finale, dice lui stesso nel documentario, probabilmente la peggior partita che io ricordi. E allora succede che da lì, dopo che viene registrato il discorso, incontra il suo team di marketing, di gestione della comunicazione, i suoi più fidati collaboratori, sua moglie, i suoi genitori, e si testimonia l'uscita, poi, della notizia il giorno dopo, tutti i suoi pensieri e quant'altro. Lui, nel frattempo, condivide ricordi, c'è un viaggio, c'è un trasporto dello spettatore da questo punto di vista. Si vola a Londra e lì si raccontano un pochino tutte le dinamiche della Lever Cup, perché viene scelta come luogo di addio. C'è un racconto delle storie con i principali protagonisti dei suoi principali rivali, Novak Djokovic, prima Andy Murray, ma soprattutto Rafa Nadal. Quindi viene dato spazio a questi, forse un po' meno a Murray, poi Djokovic è chiaramente Nadal quello che prende di più il palcoscenico a fianco a Federer nel raccontare la rivalità, nel raccontare che cosa è stato Federer per l'altro. Insomma, un elogio alla sua carriera da parte di questi grandi big. Bjorn Borg viene intervistato, comunque viene fatto parlare per raccontare, insomma, un pochino dal suo punto di vista. Ci sono le dinamiche poi del famigerato doppio Tiafoe-Soc contro Nadal Federer, l'ultima partita della sua carriera, dove ha avuto il match point, poi sfuma e perdono. Mi ricordo, questo non viene detto, però Tiafoe disse cavolo, mi dispiace, avremmo dovuto farlo vincere, no? C'è un Nadal negli spogliatoi, accidenti, potevamo vincere, fucking Tiafoe, maledetto Tiafoe dice, no? Si vede Berrettini, tra l'altro, nel documentario. Insomma, per tutti gli amanti di Federer, per tutti gli amanti del tennis. È stata un'ora e mezza di fortissime emozioni, perché Roger Federer, con la sua grazia, la sua eleganza, il suo tennis paradisiaco, ha incantato il mondo del tennis. Chi è che non apprezza Roger Federer? Cioè, puoi avere il tuo idolo in Djokovic, in Nadali, in Marre, in Berrettini, in Musetti, in Sinner, chiunque vuoi, ma non puoi non apprezzare Roger Federer. Purtroppo, ogni cosa è una fine. Lui ci è arrivato a 41 anni, è una carriera di quasi 25 anni di circuito professionistico, ha vinto tanto, molto più di quanto si potesse immaginare a quell'epoca. Poi, chiaramente, la storia ci racconta che qualcun altro ha fatto addirittura meglio di lui. Questo mi porta a pensare, e quindi non vi spolirò altro, andate a guardarlo, questo documentario, 12 Final Days, su Amazon Prime. Mi porta a pensare che cosa sarà quando si ritireranno anche Nadal e Djokovic. Marre, l'ha detto, probabilmente giocherà a Wimbledon e le Olimpiadi, se riesce, perché si è ritirato dal Quincy con dolori fortissimi alla schiena e poi sarà la fine. Non per sminuirlo, però per Murray, secondo me, non sarà così tanto sentita. Per Nadal, soprattutto, ma anche Djokovic, si sentirà un peso quando succederà. E quando succederà, mi piacerebbe esserci dal vivo, ma soprattutto per Djokovic, che comunque, per quanto riguarda, è il mio giocatore, diciamo, preferito. Chissà se ci riuscirò. E saranno emozioni forti per entrambi. Saranno emozioni forti perché poi si lascerà un'eredità, un ricordo che vivrà per sempre. Dall'altra parte emergerà un vuoto, ecco. Speriamo che Alcaraz, Sinner, questa grande rivalità, e chissà cos'altro arriverà, possano colmare, ecco, un pochino, diciamo così, questi gap. Detto questo, l'avete già visto. Se non l'avete visto, andate a guardarlo. Se l'avete visto, dite qui sotto le vostre emozioni, che cosa vi ha dato, che cosa vi ha ricordato, che cosa vi ha fatto... Se vi siete messi a piangere, rivedendo le scene di Djokovic, di Federer e Nadal presi per mano, che piangono insieme. È così. Chiudiamo il sipario.